Sei ore in diretta tutte le domeniche, in concorrenza diretta con Domenica in condotta da Pippo Baudo, Blizza ha rappresentato per molti giovani una vera e propria icona della nuova televisione che andava nascendo. Gianni Minà ebbe la capacità di portare in televisione personaggi straordinari. Le puntate erano grossomodo monotematiche e su ogni tema Minà e la sua redazione avevano la capacità di portare in scena dei personaggi davvero significativi. Si parlava di canzoni, si parlava di canzoni e gli ospiti riuscivano a dare l'idea delle novità del momento. Memorabile fu una puntata in cui Minà portò in studio Mohamed Ali e subito dopo lo portò anche, lo si vede poi nelle settimane successive, in televisione queste scene lo portò da Papa Giovanni Paolo II che era un grande appassionato di box. In quell'occasione della partita facevano parte anche Robert De Niro, tanto per dire un nome di qualcuno che è rimasto nella storia. Blitz è una...